Noi pensiamo che l'attività ricettiva per cui gli albergatori debbano fare effettivamente ricettività e noi siamo disposti ad aiutarli per la loro attività, tant'è che ci sono bandi funzionali. Io sono Lombardo, la regione Lombardia fa sempre un bando funzionale per questa categoria. Chi invece, e questo è il problema reale che c'è oggi nel sistema accoglienza così definito dal governo, chi invece specula sulla situazione dell'accoglienza e dell'arrivo dei migranti, parliamo di albergatori, parliamo di tantissime cooperative, dal nostro punto di vista deve essere penalizzato, perché o si fa un'attività certa... È chiaro, onorevole, c'è chi dice che invece a speculare siete voi che trasformate poi il Consiglio Comunale in una sorta di talk show, no? La differenza è che noi non pigliamo i soldi, le cooperative invece si e ne pigliano tanti.